C'è posta per te, amici, uomini e donne, il ballo delle debuttanti, Clè di Cadio ha lavorato in quasi tutti i programmi mariani. Negli ultimi anni però il ballerino ha deciso di dedicarsi ad altri progetti e così hanno iniziato a circolare molti rumor. Adesso l'ex prof di Amici ha voluto spiegare come mai non l'abbiamo più visto accanto a Maria De Filippi. In un'intervista rilasciata nuovo Clè di Cadio ha rivelato che il rapporto con cui Mary è ottimo e che non lavora più in tv perché si dedica all'insegnamento nelle sue scuole. Il distacco è avvenuto in maniera naturale. Quando mi sono fidanzato ed è arrivata Lea non potevo più dedicarmi al lavoro come facevo prima. Ho compiuto 48 anni e il mio percorso di danzatore è cambiato. Arriva un momento nella vita in cui bisogna voltare pagina. Così ho optato per l'insegnamento e per trasmettere tutta la mia esperienza ai ragazzi. Con Maria il rapporto è buonissimo. Abbiamo un rapporto ottimo, abbiamo grande stima e affetto l'uno per l'altra. Le chiedo ancora consigli e ogni tanto ci sentiamo anche al di là del lavoro. Clè di Cadio e il rumor su lui e Maria De Filippi Nei primi anni 2000 circolavano delle voci su una presunta storia segreta tra Maria De Filippi e Clè di Cadio. Il ballerino ha smentito tutto ed ha confessato che lui e Maria si facevano delle grosse risate su questi pettegolezzi. Ovviamente non è vero proprio nulla. Si dice che abbia avuto una storia con lei. Si entrambi sapevamo di queste voci assurde, ci ridiamo insieme, invece lei è stato il mio talent scout. Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa. Ha fiuto, è precisa e pignola. Io le devo tanto e le sarò sempre grato per quello che ha fatto. Grazie.